Grazie a tutti. Allora, per introdurre il Vangelo io ho scelto due modi, un modo esterno e un modo invece interno. Allora, il modo esterno è qui intitolato nel punto 3.1, sfruttiamo il Vangelo. Allora, il modo interno invece è il punto 3.2, lettura, analice e da conclusione. E cosa vuol dire modo esterno e modo interno? Modo esterno vuol dire io prendo il Vangelo, questo lo devo fare per ogni libro al limite, e cerco di ricostruire l'indice del Vangelo andando alle ricerche, siccome il Vangelista non ci ha lasciato l'indice, non esisteva nell'antichità un indice, allora dobbiamo cercare noi sulla base di indizi di tipo diverso. Non è sempre semplice, però Giovanni ne presenta parte di un'altra e di scrivere, in questo caso esterno, perché io lavoro sul stesso scartavello, il Vangelo, e cerco di arrivare un po' fino a costruire un indice accettabile. Il Vangelo è volontario dal potere, poi, sulla base di questo indice, comprende anche dentro lo svolgimento e quindi entrare nel cuore della testimonianza che il Vangelo deve dare. Invece la via interna è rivolgersi all'Evangelista stesso e chiede lì che ci vedi un momento a entrare più in profondità nella sua testimonianza. E allora, qui mi è sembrato che non esistesse altre possibilità e prende la conclusione, dove l'Evangelista, la conclusione che ho citato prima e sul punto pregato, però, dove l'Evangelista dice la sua intenzione e quindi ci consegna, diciamo voi, dei destinatari, ci consegna la sua intenzione. E allora noi dobbiamo seguire la sua intenzione per entrare nel cuore del Vangelo. Quindi, tra le due parti, ancora una volta, la preponderante dovrebbe essere la seconda, speriamo di riuscirci. Allora, sfogliamo il Vangelo. Io sono andato a cui vi propongo e divergo la ricerca di diversi elementi. Sicuramente non possiamo adesso sfogliarlo, ma se ne voglio potresti farlo anche da voi. I primi sono gli inizi letterari. Cosa sono gli inizi letterari? Sono gli elementi che appaiono dal testo in quanto tale e che ci permettono di capire i punti di passaggio. Ora, mentre negli altri evangelisti questo lavoro non è tanto facile, anzi, è piuttosto difficile. Il Vangelo dei Mani, invece, è più facile. Se il Vangelo dei Vangeli sta ci ha lasciato gli inizi letterari che sono facilmente interpretabili. Ve li cito tutti. Cosa sono poi? Allora, il primo inizio letterario è questo. Chi apre il Vangelo si trova avanti, non ha un racconto, come viene degli altri evangelisti, anche se, vabbè, quando uno poi comincia, non è davvero il racconto che si trova avanti, ma poi ha preso il nome di prologo, cioè ha una solenne introduzione che presenta lo sguardo globale non è un racconto, la introduzione. E' Luca 18, versetti. All'inizio 19 si sente passato, comincia il racconto e il racconto, di fatto, va avanti e si svolge, ora, continuativamente, sino sostanzialmente alla fine del Vangelo. Allora, questo vuol dire che una prima sutura, abbastanza facilmente prima, inizio, presentazione, tra l'altro, prima 18, versetti, e il resto del Vangelo. Poi, andiamo avanti, perché si va avanti, il Vangelo scorre, capitolo primo, capitolo secondo, terzo, quarto, quinto, Gesù compie le sue opere, i segni, come vedremo, e poi, in un certo momento, si arriva a una specie di confusione, perché, arrivando al capitolo 12, l'Evangelista dice, Gesù disse queste cose, sulle ultime cose, e dice, poi, se ne andò, e si nascose loro. Non so che si nascose loro, perché si nasconde Gesù. sebbene avessero compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in loro. Questo nel senso, avrebbe il rettospettivo, Gesù ha compiuto molti segni davanti a loro, ma non crede in loro, basta, è finita, per questo motivo Gesù si nasconde, cioè, si soltrae ormai. E infatti, riprova, che questo, è vero, cioè, siamo a una conclusione, si va all'inizio del capitolo 13, subito dopo, e il capitolo 13 ci mostra un nuovo inizio. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, di passare da questo mondo al Padre, avendo amati i suoi, che erano nel mondo, li ha morti sino alla fine. E questa introduzione, è un'introduzione, un'inizio, introduce adesso, alla parte del Vangelo, dove non c'è più la gente, ci sono solo i biscepoli, e non con la città, accompagnata da tutti i discorsi, appunto, caratterizzano il Vangelo, diciamo, quindi, i primordici capitoli, contengono l'attività pubblica di Gesù, attività destinata, a portare il credito, ma non hanno creduto, nonostante tutto quello che ha fatto, i segni che ha compiuto. Poi, a partire dal capitolo 13, Gesù si ritrova solo con i suoi, è l'ultima cena, con i discorsi, c'è un ulteriore passaggio, che avviene al capitolo 18, perché al capitolo 18, terminando i discorsi, terminando anche la preghiera ultima, di Gesù, al capitolo 18, dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli, al di là del corrente centro, dove c'è un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli, e qui comincia il racconto, che porta alla morte di Gesù, e qui nella sua risurrezione, cioè il racconto conclusivo. Quindi, a questo punto, qui si arriva alla fine del capitolo 21, con il matrimonio del capitolo 21, a cui accettavo prima, quando parlò di comune testimonio. Quindi, come vedete, il Vangelo, dicevo a me, è facilmente diviso, il Vangelo stesso, si è provato a darci, se, attività pubblica, nel capitolo 12, capitoli, Gesù solo con i suoi, in vista ormai, quello che sta per accadere, consegna la sua eternità, si potrebbe dire, e questo, vorrei farlo vedere, all'affrontare del prossimo anno, e a questo si può poi, il racconto, della morte, non la passione, perché di base a una passione, ma piuttosto, una glorificazione, come pubblico, vedete poi, il prossimo anno, quindi, vedete in poche parti, sostanzialmente in due parti, provo, introduzione, prima parte pubblica, seconda parte, i discepoli, i discepoli, e quindi, il cammino verso la morte, e la risurrezione. Questo, scheletro, che emerge, può essere notevolmente arricchito, notevolmente arricchito, da tre elementi, su cui adesso mi fermo, però, un po' rapidamente, perché, se ci fermassimo a lungo, allora, qui sono gli spostamenti di Gesù, dunque, Gesù, nel Vangelo, si sposta, lo sapevo, nel Vangelo di Matteo, Marco e Luca, si sposta a pareti, anzi, Gesù è sempre, in cammino, ma nel Vangelo di Giovanni, questi spostamenti, assumono valore particolare, mentre, nei Vangeli, cosiddetti sinottici, Gesù si muove prima, all'interno della Galilea, e nelle regioni di Mitrofe, per poi passare, in un unico viaggio, a Gerusalemme, e qui, dopo, lo scontro con le autorità del Tempio, giù c'è la morte, invece, il Vangelo non è così, perché, Gesù, oscilla, continuamente, tra la Galilea, e il Gerusalemme, diciamo, solo viaggio, a Gerusalemme, ma più viaggi, di Gerusalemme, a Gerusalemme, ma Giove Giovanni, comincia in Giudea, dove c'è Giovanni, l'artista, lo sconfile, la Giudea, e dove qui, si forma il Pivu, dove dice, da qui va a Cana di Galilea, dove è il primo segno, l'acqua, notata in Dio, da qui poi, va a Cafarno, ma poi, a Gerusalemme, per la prima scuola, quindi, lascia Gerusalemme, attraverso la Samaria, l'incontro con la donna, la Samaritana, e con i Samaritani, che credono in lui, e quindi, arriva di nuovo, a Cana di Galilea, e arriva di il secondo segno, torna quindi, in capitolo 5, di nuovo aggiusterebbe, a vedere il terzo segno, il paradigme, guarito, la piscina impensata, capitolo 6, di nuovo, arriva nei pressi di Cafarno, un verso Cafarno, con il quarto segno, i pali, distribuiti alla folla, da cui nasce, proprio il grande discorso, che conoscete, su cui noi, il trattamento, di Alessandro, quindi, in capitolo 7, Gesù lascia, la Galilea, definitivamente, per spostarsi a Gerusalemme, e a Gerusalemme, infatti, rimane anche se, non si muove, nelle regioni, di Lutrofe, ma Gerusalemme, ormai, a questo punto, rimane il centro, della sua, attività, Gesù, non trova più, in Galilea, questi spostamenti, non sono, come dire, secondari, ma sono fortemente, sottolineati, dall'Evangelista, quindi, questo è il primo elemento, come il metodo, poi vediamo, che cosa si può, di fuori, per quanto riguarda, gli indici, di Libra, secondo, elemento tipico, del mangiare di Libra, sono le feste, più daiche, le feste più daiche, allora, la prima festa, dei Comuni da Marte, il capitolo 2, quando Gesù, quando è compito il primo segno, a casa di Perlea, da Gerusalemme, era vicina, la Pasqua, dei Giudei, e quindi, in Gerusalemme, Gesù caccia, i genitori del Tempio, e, parla di Nicodemo, con il dialogo, con Nicodemo, quindi, la prima festa, è la Pasqua, la seconda festa, la incontriamo al capitolo 5, in realtà, l'Evangelista dice, era una festa, nel tempo di Gerusalemme, e questa festa, è anche di sabato, tanto che, in questo elemento, poi diventa, l'evento di conflitto, con il Dei, capitolo 5, capitolo 6, di nome Galileo, e del Pasqua, e qui, avviene il discorso del pane, capitolo 7, la festa delle capanne, che è in settembre, e quindi, Gesù si lega a Gerusalemme, per la festa delle capanne, qui, a Gerusalemme, avviengono, diverse cose, poi, alla festa delle capanne, che è tutta una settimana, segue, la festa dell'Inceglia, l'inaugurazione del Tempio, di quello che è preceduto, da Maccabeo, e in dicembre, infatti, è freddo, nota dell'angelista, e poi, segue, a questa festa, dell'inaugurazione del Tempio, l'ultima Pasqua, quindi, come vedete, a partire dal capitolo 5, una festa, ignota, la Pasqua, Galilea, la festa delle capanne, la festa, dell'inaugurazione del Tempio, della dedicazione del Tempio, e, l'ultima Pasqua, gli altri evangelisti, non si possono dire, nemmeno, di fare queste notazioni, soltanto la Pasqua, che è notata, una volta, due volte dalla lunga, perché, Luca ci dava anche, la Pasqua, che è Gesù, che dice, a Gerusalemme, dove, appunto, rimane, a Gerusalemme, ai sacerdoti genitori, però, al di fuori di questo, non c'è altro, e, per Giovanni, nota, queste feste, poi, un primo, elemento, che vi dopo li metto insieme, e, i segni, che Gesù compie, come vedremo, nel titolo, nella conclusione, molti segni, che Gesù davanti, sui discerti, e, ma non sono stati iscritti, in questo libro, e, anche nel corpo, della narrazione, lo dice più volte, la gente, vedeva i segni, di Giovanni, nella narrazione, e, questi segni, sono, l'acqua, la calamità dell'anno, la ventina, il primo segno, il secondo segno, il figlio, del piccato reale, il marito, il terzo segno, quindi, questo, a caso di una idea, il terzo segno, e, il paralitico, il guarito, la prescenda direzzata, diciamo, al tempio, il quarto segno, il padre, il quarto segno, sull'anno, con i panni, distribuita, la folla, in Galilea, il quarto segno, il cerco, un perito, il sesto segno, la resurrezione di Gaza, l'ultimo, più grande, segno, che ci sono, di, 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 di capitare la cittadella, distingue l'attività di Gesù, la prima attività di Gesù, dopo i discicli, da Cana a Cana, quindi da Cana al capitolo II a Cana al capitolo IV, perché il matrimista lo richiama, questo fu il secondo segno che Gesù compì a Cana di Galilei, lo sottolineano, quindi gli esegenti dicono, c'è una intenzionalità, bisogna accogliere questa intenzionalità, e per fatto questa unità, all'interno ci sono poche cose, Gesù dopo il segno a Cana di Galilea va a Gerusalemme, i venditori facciati dal Tempio, il discorso con Nicodemo, poi l'incontro con i samaritani, gli auguri con la samaritana, l'incontro con samaritana e quindi il segno possibile, e l'evento caratteristico di questa prima parte è che la gente crede in Gesù, è il momento iniziale in cui si manifesta la fede, i primi suoi discepoli, al segno di Cana di Cana, credente di lui, poi segue la fede di gli abitanti di Gesù, crede di gli abitanti di Gesù soverbe, anche se Gesù non si fida troppo, poi in Codemo, credere così e così, il credere dei samaritani, il credere di un uomo il figlio è guarito, credere. Poi la seconda parte viene invece strutturata sulla base delle feste, nel presupposto che questa sottolineatura delle feste da parte dell'Evangelista in qualche modo per rimanere il significato, le antiche feste judaiche vengono soppiantate dal nuovo significato dato da Gesù. Questo è evidente della Pasqua, Gesù come la prima Pasqua caccia i venditori dal Tempio e dice di studiare di questo Tempio in tre giorni, io lo farò risorgere, la seconda Pasqua è la mia carne per la vita del mondo. La terza Pasqua è il figlio dell'uomo impalzato che attira tutti a sé. Quindi le feste vengono proposte come criterio di strutturazione di questa parte dell'arte del Stangelo e all'interno delle feste si occupano tutti i segni che hanno il concetto di rivelare l'identità di Gesù. Altro non direi a questo punto perché personalmente non si riconvince, certi strutturi riconvincono in cui non fico in fondo, poi dirò e a mio avviso una cammina strutturale che potrebbe essere interessante, ma la vediamo dopo. Adesso ci dediciamo invece a seguire l'Evangelista ed entriamo l'Evangelos. Allora, leggo la conclusione Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché non crediate che Gesù è il Cristo e il Cristo è perché credendo, abbiate la vita nel suo nome. Allora, se notate, qui ci sono degli elementi fondamentali. Allora, primo elemento, i segni. Qual è lo scopo dei segni? Lo scopo dei segni è portare a credere in Gesù. Notate che il verbo credere, su cui poi dirò diverse cose che sono importanti, il verbo credere due volte, dice perché crediate che Gesù è Cristo, è il figlio di Dio. Questo perché crediate rimanda a un atto puntuale, perché crediate, credere vuol dire accettare, aderire, ma non basta, non basta un attiviziale. credere che si dilunga più lungo nel tempo, perché solo allora si arriva alla vista. Quindi, se credere Gesù è Cristo, il figlio di Dio, l'identità di Gesù, ciò che il credere porta la vita, voi, i destinatari, che in questo caso siamo noi. Cioè, chi in questo modo diffrutta il Vangelo, in qualche modo entra in dialogica generazione con il Vangelo. Vediamo tutti questi elementi, uno per uno. Segni. Dunque, una premossa questione semplice, ma molto importante, la parola segno ricorre solo nella prima parte del Vangelo, cioè quella pubblica, al capitolo 1, al capitolo 12. Poi, per trovarlo, l'ultima volta bisogna arrivare a questa conclusione che ho detto. Questo è indicativo, nel capitolo 13, 14, 15, 16, non ricorre mai la parola segno, eventualmente ricorre la parola opera o opere, che tra volte è sostitutiva di segno. Ma non la parola segno. Tanto che la prima parte del libro del Vangelo di Vangelo è chiamata, come è notato, anche il libro di queste altre giorni, il libro dei segni. Questo è tutto centrato su questi atti che Gesù compie. E perché erano chiamati segni da Giovanni? Questo è abbastanza evidente. Il contatto del segno non è di attirare l'attenzione su di sé, ma di indicare qualche cosa che lo vuole creare. Significa, se non si vedono a guardare l'interno stranale perché è bello, è un segnale, indica qualche cosa, una direzione. Quindi sono segni che devono rivelare, far conoscere, quindi non ci si chiama sul segno non normale, ma sul suo contenuto, su quello che Gli rivela, e si rivela rispetto evidentemente a Gesù. Quindi la prima citazione di segni si trova in 211. Questo, a Cana di Canilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù e gli manifestò la sua gloria e tra gli scepoli credente per lui. Per l'ultima volta, sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti al mondo, non credere. Come vedete, segno è associato a credere. Però vorrei farvi riuscire ancora, perché ha una certa estensione, anche se non approfondisco questo aspetto, al costo di segni, e questo si estende a capito del Vangelo, l'evangelista usa anche opere. Per esempio, nel Capitolo 10, quando Gli Rivela attaccano e poi cercano di rapidarlo, Gesù manda, per quale delle opere vengono più che voi volete rapidare? E si risponde. Noi non ti rapidiamo perché non più che le opere non fa, ma perché tu sei buono, no? Il figlio di Dio. Questo è il motivo, tutto è il motivo anche della morte. Quindi la parola opera ricorre talvolta, non è plurale, come sinonimo di segni, sui gesti compiti da Gesù che manifesta. Poi, al singolare Ergon, invece, descrive la totalità delle nazioni di Gesù. Nell'ultima preghiera Gesù dice, ho compiuto un'opera, che tu mi hai dato da fare. L'opera è l'insieme della reglazione compiuta da Gesù che porta il bene a noi. Qual è l'identità di Gesù che emerge dai segni? E qui bisognerà evidentemente firmarsi su ogni segno. Però, è abbastanza facilmente vedevabile in alcuni segni. Allora, per esempio, del segno dei pani, del segno della... di cana, delle due cane, non ci sono discorsi di Gesù che viene. Però, c'è un raccontare e un po' di periodare dell'Evangelista che nasce da fine qualche cosa. Allora, nel primo dirà il segno, l'acqua abitata in vino, l'acqua contenuta nelle giare, destinate alle abruzioni dei giudei, la proficazione, secondo le prescrizioni, regali, quindi siamo nel contesto antico-testamentale. Da qui scatolisce il vino e il capo tavola. Lo nota questo fatto, non sa da dove viene questo vino, ma sei rivolto allo sposo. Tu hai conservato un vino buono sino ad ora. Quindi, è evidente il passaggio. Tu, rivolto allo sposo, ma in realtà è rivolto a Cristo, è conservato il senatore di Romona che ora va dai dalla purificazione. Nel segno della purificazione italica si passa al giorno nuovo. Dalla sua finezza, per tutti, abbiamo la metto in una nota, abbiamo ricevuto grazia su grazia, una quantità evoli. Nel caso del secondo segno a casa, in cui non ci sono particolari, però c'è una frase ripetuta tre volte che diventa un indizio. Perché Gesù dice a questo uomo, prima lo riprova, se non vedessi segni, voi non credete. Questo non esiste. Il primo muore. Allora Gesù gli dice, va, tuo figlio vive. Questa frase, tuo figlio vive, viene tutta altre volte, perché viene veduta poi dai serbi, che gli vanno incontro, quando lui sta per arrivare, e gli dicono, tuo figlio vive. Allora, a quel punto l'uomo capisce che il momento in cui Gesù, da allora, ha un guarito, nel momento in cui Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive, il bambino è guarito, e allora credete. Quindi, tre volte ha detto, tuo figlio vive. Evidente, Gesù, fonte della vita, che poi gli è approfondito nel secondo segno. Forse è più in idea, con il segno del pane, io sono il pane vivo di scesco al cielo, e poi il pane che è la mia carne per la vita del mondo. E poi si vede bene il passaggio, che poi porta all'interno della vita, che lo sei, è una transizione piena, che in qualche modo realizza pienamente quello che gli vanno a dire, che gli sta dicendo la conclusione. Dove non dico altre cose sul segno. E i figlio, invece, sul credere, che è importante, molto importante. Allora... Dunque, intanto, notate questo, è una nota abbastanza semplice. Giovanni non usa mai il sostantivo fede, che invece è molto caro a Paolo, ma sempre e solamente il verbo credere. Perché? Perché il verbo dinamico esprime un dinamismo, una rinazionalità. quindi la fede invece è più un sostantivo, quindi è più statico. Questo è già più veramente importante. Ma che cos'è il credere Giovanni? Allora, non è evidentemente l'assenso di fede, quando noi diciamo credere, normalmente noi ci riferiamo a un assenso di fede. Io credo che Dio esiste. Quello che diciamo è il credo. Tanti si chiama credo. Io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Questa è un'affermazione che ha un assento con cui sono d'accordo. Ma sono affermazioni che non incidono nella dimensione profonda dell'esistere. non è questo tipo. L'affermazione è difficile, rimangono all'esterno. Allora, invece Giovanni, il verbo credere, ha un'attività sostanzialmente diversa. E qui tendo a dimostrarvelo con due esempi, perché è molto importante. Il primo è la frase che Gesù dice a Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo da dare un figlio di cerito. Perché chiunque crede in lui vada per tutto manca la vita eterna. Ora, se voi fate attenzione a queste parole di Gesù, non direi che in queste parole ci sono due elementi speculari cioè che stanno uno di fronte all'altro. il primo è l'atto di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio di cerito. L'amore di Dio come si esprime? Non è un atto così volatile. È concreto, è estremamente concreto, anzi è un atto totale da dare il figlio quel figlio che è una cosa sola come il padre io e il padre siamo uno come Gesù dice ai giudei e anche gli scepoli. Quindi, non è un dono qualsiasi è il dono totale di Dio si potrebbe dire in questo amare Dio semplica tutto. C'è la totalità di Dio che si dona. L'altro elemento speculari invece riguarda noi perché chiunque crede in lui non vada per tutto ma avrà la vita eterna. Ora, se qui uno pensa credere come ha senso è io ho dato il figlio di genito amato il mondo e qui si ferma non c'è corrispondenza alla totalità dell'atto di Dio delle corrispondite della totalità è mostrato di risposta perché se no non c'è delibrio quindi il credere diventa l'adesione totale la consegna totale nostra di chiunque crede al Dio che ha amato tanto da dare il suo figlio non so se mi seguite ma dovrebbe essere un'unità incomprensibile alla totalità del dono di Dio non c'è questa una risposta superficiale la risposta è totale quindi credere e comprendere questa totalità di risposta dal che si comprende che si segue poi come vedremo il dono della vita perché non vada perduto ma questo è un coronario conseguenza del credere di risposta la vita la vita eterna la vita Dio tu l'hai solo se entri rispondendo a questo Dio che ti ama totalmente il credere è un atto totalmente il secondo esempio questo è questo è il più semplice perché è l'esperienza dei discepoli ma cerco di assumervela rapidamente perché è stato il modo di parlare dei discepoli da parte dell'Evangelista vi spiego i discepoli nel primo capitolo cominciano a sperimentare Gesù a credere in Lui per l'esperienza allora ecco l'Agnuno di Dio dice Giovanni Battista e Dio e i suoi discepoli seguono il maestro dove abiti venite vedrete andremo e un fidero esperienza uno dei due va e Andrea da Fridiano Simone e dice abbiamo trovato un Messia che significa Cristo e non parlo da Gesù eh cosa vuol dire che ha creduto in Gesù come Messia se no non lo diceva il fratello la stessa cosa avviene poi a Natanere quando Filippo dice abbiamo trovato con lui nel quale hanno parlato Mosè nella scrittura e i prefetti Gesù figlio di Giuseppe e di Nazareth la risposta di Natanere come diremmo negativa la Nazareth può venire qualcosa di buono proprio quando Gesù gli fa capire la sua persona c'è un Cristo e un Cristo esplode tu sei il figlio di Dio tu sei l'Israele ecco vabbè qui c'è già tutto hanno caduto eppure primo segno l'Evangelista come abbiamo visto termina con le parole questo fu l'inizio dei segni ma che non si dà l'idea Gesù manifestò assolutamente i suoi discepoli credettero in ma non hanno già creduto che bisogna arrivare nel segno non c'era già l'esperienza descritta nel capitolo primo e descritta anche molto intenso perché credere? e credere è che Gesù fa un atto ulteriore di rivelazione nel segno e allora tu devi aderire credere non è statico ma è dinamico andando avanti poi c'è il frammatico capitolo 6 dove inanzi alla progressiva rivelazione di Gesù come pane di vita che viene da carne da mangiare molti che sono riusciti che la mandorano volete andare per anche voi Gesù dice 12 si vuole e risponde Signore da chi andremo tu solo e parla di Dio credere creduto e conosciuto che tu sei il santo di Dio è un credere che cresce nella conoscenza creduto seguito dal verbo conoscere conoscenza vita e non è di credere poi ulteriore elemento interessante quando Gesù ha ricevuto una notizia siamo al capitolo 11 che l'anzio sta male sono pregurati di farglielo sapere aspetta intenzionalmente e due giorni poi dice dice poi sono contento l'anzio si è addormentato si è addormentato si è addormentato finalmente capiscono il linguaggio dice Gesù l'anzio del morto e l'anzio dice e io sono contento per voi di non essere stato là perché voi crediate crediate oh insomma non è già creduto eh no credere sta per accadere qualcosa di ancora più grosso e il credere è la risposta al Dio che si rivela quindi il credere Giovanni è un atto dinamico poi il verbo credere lo troviamo natamente negli ultimi capitoli dei discorsi di Gesù credete credete Gesù mi invita quindi è importante questo aspetto perché ci interpegna poi ho perso il conto del tempo anche lui che ho cominciato va beh cerchiamo di sopravvivere poi come si giunge a credere allora qui mi fermo in sintesi primo la parola profetica allora la testimonianza di Giovanni Battista la parola profetica già nel prologo l'Evangelista l'ha detto è un uomo mandato da Dio sono da Giovanni perché Dio lo manda perché tutti credessero parlando di lui credessero e poi ai giudei nel capitolo 5 versetti 46 47 la testimonianza della scrittura di me ha parlato Mosè voi leggere le scritture di me ha parlato Mosè quindi si giunge a credere primo attraverso la testimonianza profetica secondo attraverso i segni questo lo abbiamo visto terzo la parola di Gesù i segni a primo ci sono stati diversi passi dove Gesù non accetta il credere di Gesù perché questi gli avvistassi di Giosarelle a Giosarelle capitolo 2 molti credetero in lui ma Gesù non si fidava di loro perché sa quello che dice il credere superficiale come poi lo vediamo allora è la parola di Gesù che in Egitto non c'è un credere più profondo meno e volatile i samaritani ad esempio credono in Gesù non che su di suo fa sé ma che è la parola di Gesù ed è interessante quello che dicono i samaritani rimane con loro due giorni e alla donna che per prima ha dato un annuncio sulla base della sua esperienza allora mi dico adesso non crediamo più per la tua parola per la tua per la tua per la tua chiacchiera che si potrebbe dire per quello che tu hai raccontato ma perché noi stessi abbiamo dito e conosciuto che questo è il salvatore del mondo quindi la parola ti porta a credere e poi ci sarebbero ancora altri aspetti ah forse un altro che vi possa citare molto bello anche lei nel capitolo 8 l'hanno creduto esattamente per sempre non si trovo ma peggio ma dice se rimanete nella mia parola siete veramente nei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi allora hanno creduto ma bisogna rimanere nella parola per diventare i discepoli e crescere progressivamente nella conoscenza della verità che ci sopporta e che è il padre e quindi essere veramente liberi perché questi giudei si inalverano ma noi siamo sempre stati liberi siamo figli di Abramo e poi si inizia di nuovo il contrasto per cui la richiesta è molto chiara credere si attra attraverso la parola e come colonnare adesso questo noi ricorderò la parola scritta per noi non c'è più la parola di Gesù ma la parola scritta che è fondamentale quindi la relazione con la parola scritta questo è ancora perché interno e dunque veramente il punto 3,4,3 quelli che credono ci sono quelli che credono pienamente i maggiori giornalisti delle porte i scegli marita il cieco una bellissima finuta ma ci sono quelli che credono in modo superficiale oppure che credono in modo nascosto perché hanno tolto come Nicodemo o anche Giuseppe e di Mattea vabbè è una distinzione sicuramente approfondire invece mi fermo un attimo più di più sul mondo che non crede lascia la parte della parola che è molto importante in Giovanni come è un elemento in posizione a Gesù amato da Dio si è apposto perché non credere a Dio che non credere nel Gesù di Giovanni emergono tre motivi prima la ricerca della gloria romana questo come dice Gesù come potete credere voi che cercate la gloria dagli altri come potete credere voi quindi se voi diventate giussi in una sorta di autogratificazione reciproca e non c'erano a fare non potete credere posso tornare anche in conclusione amavano più la gloria degli uomini che la gloria degli uomini secondo la presunzione della legge questo è tipico dei farisei che poi diventano i giudei e i fratelli di Giovanni sempre la presunzione della legge la certezza di avere la legge e la verità per cui non abbiamo bisogno di te questo appagno praticamente nella guarigione del cieco e dei confronti che seguono questa guarigione ve li diciamo perché i farisei diciamo questo uomo raccontaci cosa è successo e questo uomo racconta anche i farisei rimangono incerti argomenti dicono è sabato questo uomo non può vedere perché ha fatto questa cosa il gioco di sabato altri decidono ma come può un uomo peccatore fare questi segni e c'è una divisione tra di loro poi chiamano i genitori e richiamano questo uomo allora dicono ma avevo già raccontato e dicono in modo chiaro ormai si sono contattati noi sappiamo che questo uomo è peccatore e anche il gioco risponde è quello che era c'è se sei peccatore o no non lo so però so una cosa è il gioco e non ha detto in modo concreto ma come ti ha detto ve l'ho già raccontato volete diventare anche voi discepoli cioè tu sei discepoli noi siamo discepoli di Rosè noi sappiamo noi sappiamo la produzione che a Rosè è parlato di Dio ma così non sappiamo di dove sia e loro vuoi rispondere ah questo è bello voi non sapete di dove sia eppure nel guariglio vorrà che in un bel mondo non si è mai sentito che un uomo un peccatore guarissimo c'è se costumi non fosse per Dio non avrebbe potuto fare una cosa a questo punto lo cacciano fuori violentemente se è nato tutto nei truccati ecco il segnale noi ecco la produzione la chiusura totale la certezza e poi l'indurimento questo lo prevede la richiama l'Evangelista nel capitolo 12 richiamando il testo di Isaia non mi fermo questo e concludo come vedete sono credere ho insistito perché è molto importante adesso non so come faccio affrontare l'identità di Gesù e perché il Vangelo si può suddividere alla luce del credere secondo me molto bene hanno le primi 12 capitoli credere attraverso i segni questo mi pare abbastanza evidente con due parti i primi 6 capitoli dove prevale ancora il credere poi dal capitolo 7 in avanti capitolo 6 il momento drammatico del passaggio invece prevale ormai definitivamente il non credere quindi c'è questa progressione dal credere al non credere che poi il quattore evangelista complesse bene avessi conceso tanti segni non credere di lui seconda parte 13 17 credere dei discepoli attraverso la parola di Gesù Gesù vi invita reiteratamente a credere in lui nel capitolo 14 15 16 non più pensi a interessare più per esempio la sua parola la sua parola che se costruita pone in relazione con lui e con il padre e poi l'ultima è interessante questo che nel capitolo a partire 18 19 scompare anche il credere mediante la parola e compare il credere mediante la testimonianza due volte sui testi che ho già citato capitolo 19 e il 135 chi ha visto nella testimonianza la sua testimonianza della perché voi crediate e poi ci stanno quindi credere attraverso i segni credere attraverso la parola credere attraverso la testimonianza che poi porta a voi il voi le destinatari Gesù è il disastro adesso perché adesso su Gesù ci sarebbe da dire quanti dei titoli che Cristo e figlio di Dio ci portano nel cuore dell'aggetto e quindi quali facciamo adesso qui allora io mi metto in evidenza il sebo il foglio così allora se noi vogliamo un attimo fermarci e capire chi è Cristo nel mangiare le domande per cui questo cammino primo il Messia Gesù è il Messia il Messia Gesù 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 il Messia un po' che è il Messia il Messia è un'israelita senza difetto è significativa da Nazare poverini è qualcosa di buono no è qualcosa di buono e qui in questo caso indica il Messia no no assolutamente quindi c'è un'attesa del Messia che risponde all'aspiranza Gesù non non corrisponde a questa attesa è l'inanzare non è diventare è la gravidea è la gravidea non so oggi profeta quindi si crea un contrasto che da giorni mette volentieri in evidenza perché si deve arrivare alla persona Gesù della sua identità più profonda mi piace credere non semplicemente esteriormente quindi non ci si arriva sembrano quindi quando la gente nel discorso dei pari dice ma come può dire sono descisi dal cielo non suo padre non è Giuseppe come può dire che è descisi dal cielo c'è un contrasto è quello che è che è la sua realtà uomo tra la carne e l'identità divina l'identità divina non si arriva solo nella misura in cui si accetta di rivelarsi di Gesù costante aver approfondito detto così insomma poi ci sono quindi Cristo beh a cominciare con i scegoli poi il mar e il cieco e il Cristo che Giovanni presenta un attimo vi faccio notare perché questo è molto ricco dell'angelo Giovanni faccio notare semplicemente alcuni punti e già nel provo dice la legge fu data nel mezzo di Mosè la grazia e la verità vendero per mezzo di Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù il nome con il titolo quindi c'è continuità ma anche superamento totale la legge fondata sottintesa da Dio attraverso la legge antica la grazia è la verità cioè la grazia è il dono della verità che gli vengono in Dio queste due parole che in realtà è la conoscenza di Dio che ci supporta di Dio che nessuno avrei visto sono venute attraverso Gesù il Cristo il Messia poi nella presentazione di Giovanni Battista il Messia viene presentato come ecco l'angelo di Dio che voglia il peccato del mondo e così poi Giovanni va avanti adesso ci sarebbe inserire fino alla conoscenza anzi nella conoscenza esplode la messa di Gesù un animolo contraddittorio tipico questo anche negli altri provageni ricordate e lo vedrete il prossimo anno che nel confronto con Pilato l'evento fondamentale è Gesù il Re tu sei dei Giudei mentre negli altri evangelisti rispondono tu lo dici pochi silenzio solo Giovanni no il Regno non è di questo mondo e poi questa rivalità viene presentata ai Giudei ecco il vostro Re non lo abbiamo altro Re all'inforo di Cesare si consuma così la separazione totale e poi ultima cosa Pilato intenzionalmente fa scrivere il cartello in tre lingue Giovanni una nota dedica in particolare in un secondario ebraico greco e latino Gesù Nazareno Gesù Re dei Giudei quindi la proclamazione sulla croce questo è il Messia compimento della Messia di città di Gesù quindi ci sarebbe da seguire questa cosa sul figlio di Dio questo è bello al di là dei titoli figlio di Dio figlio da solo vicente a flore e unigenito figlio del uomo vicente aggettivo legato al figlio figlio di Dio figlio del uomo e verbo logos metrologo ma al di là dei titoli perché erano tutti approfonditi e mettere in evidenza i verbi che in qualche modo figlio di Dio Giovanni non lo intende in modo semplicemente un titolo estendo figlio di Dio già nell'Antico Testamento è colui che in qualche modo viene adottato per Dio tu sei mio figlio oggi ti ho generato Israele è figlio di Dio di quanto il popolo dal mio letto ma il titolo qui è semplicemente un titolo di superficie Giovanni no Giovanni è comunque in relazione con l'aggezione del padre e soprattutto questo si percepisce dai verbi e qui mi trovo che mi sono messi in sintesi i verbi della relazione amare e conoscere il padre ama il figlio ha fatto tutto in mano un figlio ama il padre e che lo mostra facendo quello che il padre vuole il soggetto per lo amare è un po' più con il soggetto il padre e meno con il soggetto di Gesù mi pare due volte solo con il soggetto però c'è una corrispondenza poi ci sono i verbi dell'imitazione ascoltare vedere e fare le parole le parole che ci dice non sono le parole ma sono le parole che ho detto dal padre e che mi ha detto a voi io faccio quello che ho visto fare dal padre e richiama continuamente il padre come l'origine del suo ciclo per cui chi è visto a me ha visto il padre nel mio agire si riflette continuamente il padre anche questi capitoli che sono fermi che dovrebbero approfondire quindi accuratamente i verbi del mio io mandare inviare chi è mio chi è il padre come si è inviato come si è inviato questo titolo ricorre puntualmente in domande decine di volte e poi ci sono due verbi un sostantino un verbo legato l'uno all'altro gloria e qualificare il padre glorifica il figlio e il figlio con l'origine del padre con bisogno veramente fermarsi ma questo punto non è possibile e eventualmente non datele queste cose in corso di lettura manuano più avanti mangiando avanti questo sostantivo e questo verbo è tutto il verbo con il padre non sempre più puntuale e l'ultimo elemento è l'immanenza reciproca regolata da Giudea capitolo 10 poi esplode nella seconda parte del mangiatore il discito il padre il me e io il padre io il padre siamo una cosa sola questa relazionalità totale che poi tutti i verbi esprimono in modo dinamico amare conoscere e poi tutti gli altri verbi che ho sottolineato il passaggio all'ultimo punto per chi abbiate vita nessuno ha mai comprensibile che cosa è la vita non è altro che una partecipazione a costruire darsi di Dio in Gesù che mi mette nel vitalismo della relazione questo è il dono questa è la vita cioè tu entri nella relazione tra padre e figlio e ne diventi partecipe per cui qui ho messo in evidenza interconti Gesù ha la finezza della vita del padre ci sono diverse citazioni il dono della vita attraverso i sacramenti come sono i sacramenti da virgolette l'acqua l'acqua della vita il pane della vita la parola di vita eterna sono i mezzi con i quali Gesù ci dona la vita e ci introduce alla relazione e gli effetti del dono che sono la partecipazione alla relazione che ha padre e figlio cioè si entra nell'immanenza questo poi appare nell'isposizione di Gesù il discepolo come vedete c'è di che riflettere ora capisco che io l'ho guardato un po' ci vorrebbe un'altra ora perché questa sarebbe sufficiente ma vivete bene a me facendo della lettura a tenere presente queste griglie che è tutto in qualche modo vostro e quindi allora tante cose si chiariranno perché tutti i bambini all'ottorella come dicono i samaritari alla donna e Giulio adesso faccio Giulio come legge il pangelo di Giovanni e qui leggo il libro che ho scritto è semplicemente velocioso allora il pangelo di Giovanni richiede per questa sua specificità che oggi sta a dimostrare anche il suo modo di ventura è il pangelo che più di ogni altro immette nel mistero del Dio allora la parola e la sua importanza come ingresso all'esperienza di Gesù prima di mettere una cosa la conclusione è molto importante invece questi segni sono stati scritti perché crediate siccome dopo la manifestazione di Gesù il vaso ricordate poi chi ne ha visto ha creduto vedete credere beati quelli che non hanno visto e hanno creduto e poi il solito si attarca la conclusione molti altri segni fece Gesù questi stati scritti perché crediate è la parola adesso tu non vedi più ma la parola ti dice nell'esperienza del credere quindi questo è importante non dimenticare che la parola scritta in Giovanni è l'esito ultimo di un cammino che inizia dal padre la parola che voi ascoltate non è mia ma del pane che mi ho mandato e attraverso Gesù i certi testimoni giunge a noi quindi non è una parola qualsiasi Gesù si vendica per così dire questa origine divina della sua parola e invita a custodire la del cuore con attenzione estrema secondo in questa parola c'è lo Spirito Santo secondo quando Gesù promette vi ho detto queste cose mi possono ancora presso di voi ma imparando lo Spirito Santo che il padre manderà di un nome lui mi insegnerà ogni cosa e mi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto quindi potrebbe cercare di approfondire ma potete fare il prossimo anno l'azione dello Spirito Santo che Giovanni è fondamentale e ricissima 3 il fine fondamentale della parola è di credere che come è visto non è semplice assenzione ma visione piena e si introdurge alla comunione divina come il promesso da Gesù Gesù si rompiamo e il padre più lo verrà e noi le rimanze e le rimanze le rimanze le rimanze e noi lui mi insegna la mia esperienza grande grazie grande grazie Grazie.